Salve a tutti e ben ritrovati alle video interviste di Radio Bombo, oggi l'appuntamento slitta di qualche ora rispetto al classico sabato mattina perché abbiamo voluto proprio durante la mattinata del sabato concederci questo spazio con Alberto Altieri, un rilassato presidente della Forti Strani rilassato dal punto di vista dell'esito sportivo della stagione perché la salvezza della Fortis sicuramente è stata una delle più belle notizie della settimana e ovviamente la sua onda lunga ancora ci investe in maniera positiva perché stiamo ancora vivendo quelle emozioni legate alla vittoria di Grottaglie e a tutto quello che durante questi mesi è accaduto per arrivare a questo autentico successo sportivo perché una salvezza Alberto possiamo dirla è paragonabile se non di più addirittura la vittoria del campionato dell'anno scorso, poi per quanto ti riguarda da tifoso qual eri a presidente è veramente tutto un altro modo di vedere le cose Sì, hai come sempre sintetizzato al meglio e diciamo che dopo la partita di Grottaglie ho detto che questa sicuramente è una vittoria che equivale a un risultato sportivo come quello del campionato vinto lo scorso anno ha un sapore semplicemente diverso perché ho detto che è una vittoria della città è una vittoria frutto del lavoro, del sacrificio e dell'impegno, dell'onestà, della trasparenza cosa vogliamo dire? Quindi è sicuramente un risultato che penso possa essere ricordato negli anni e che la nostra città deve sentire proprio perché tutti quelli che hanno partecipato come ho detto qualche giorno fa con un gesto di affetto, con un contributo, con una disponibilità con piccole cose hanno contribuito a portare avanti un percorso che è stato veramente improbo veramente difficile, provante e alla fine comunque vedi la morale di tutto il discorso come altre volte abbiamo detto e che penso che si possa racchiudere nel fatto che se nella vita si lavora e ci si dedica avendo anche un briciolo di passione e logicamente senso di responsabilità i risultati poi arrivano e questo è sicuramente il sunto della stagione che abbiamo vissuto. Qual è stato il momento più difficile da quando hai assunto la presidenza della squadra? L'altro giorno durante i festeggiamenti mi ricordava Nicola il segretario che è un ragazzo Nicola Palumbo eccezionale, molto bravo che ci ha dato una grossa mano per tutto quello che era l'iter burocratico, la gestione eccetera eccetera e mi ha ricordato un episodio che avevo dimenticato che quando praticamente ci fu la firma sull'atto che sanciva il passaggio di consegna tra il dottor Flora e il sottoscritto, una volta che avvenne questa firma poi facciamo una riunione con il segretario Fabio Sterlacci per quello che era tutta la gestione, le carte eccetera. Beh, il retroscena è che quando io parlai con Fabio e mi resi realmente conto di quello che avrebbe comportato tutta questa cosa ebbi una specie di collasso e la fortuna fu che questo incontro lo facciamo in una clinica dove Fabio lavorava e quindi subito un medico mi dette una mano, no cito questo episodio perché io ero in un periodo anche lavorativamente parlando pesante e quando logicamente mi trovai di fronte a capire che cosa bisognava fare nel concreto e che potrebbe sembrare una mancanza di responsabilità non averlo appurato prima in realtà non era così però poi sai quando nella vita ti trovi proprio di fronte agli adempimenti da assolvere nell'immediato al monte quando avevamo individuato anche le risorse che servivano per completare la stagione ebbe un attimo uno sbandamento e questo fu uno degli episodi che poi mi ha fatto piacere ricordare per dire, per sintetizzare quello che poi è realmente successo, cioè una difficoltà dietro l'altra, un rincorrere sempre delle soluzioni e un concentrarsi sul fatto che personalmente ho sempre cercato con cadenza mensile, se andate a ripercorrere un po' tutte le fasi, di inventarmi qualcosa per sostanzialmente portare avanti questa cosa e dare nuova linfa, nuovo entusiasmo perché era quello, io avevo capito che serviva arrivare a maggio e per fare questo appunto tramite idee, tramite un briciolo di preparazione commerciale che io ho acquisito in tanti anni, ho sempre cercato di studiare delle operazioni che potessero avvicinare la gente a questa causa e in effetti poi è andata così. Hai detto mi interessava, ci interessava arrivare a maggio ma forse vi interessava soprattutto arrivare al cuore della gente perché l'operazione che si è fatta è non soltanto da parte tua come Presidente ma credo anche soprattutto dell'allenatore parallelamente è stata quella di parlare in maniera schietta, chiara, onesta, dire le cose effettivamente come stavano e presentare una faccia del calcio inedita, credo che alla fine la città abbia percepito che non si stava facendo calcio in maniera speculativa ma si stava semplicemente facendo calcio per passione e per passione si intende i sacrifici che ovviamente hai fatto tu come Presidente che spesso ci ha rimesso di tasca sua economicamente parlando. Pettinicchio che ricordiamo ha affermato anche il maggiore azionista del Trani, sono io nel momento in cui mi sto togliendo un sacco di soldi di stipendio ma ovviamente questo discorso lo estendeva la squadra che ha fatto anche dei sacrifici per l'attaccamento alla maglia. Forse è questo il messaggio che alla fine la gente ha colto, non ricordiamo insomma di posizioni divergenti rispetto all'impostazione che si era data alla società e alla squadra. Insomma a un certo punto la città sebbene l'interesse per il calcio ci sembra resti abbastanza tiepido complessivamente parlando però ha apprezzato l'onestà intellettuale di tutto l'ambiente. Sicuramente perché io ritengo che in qualsiasi cosa uno si approccia se riesce, che ha un fine voglio dire un risvolto sociale, una cosa che coinvolge comunque la collettività, la nostra città, io penso che questa esperienza debba dare a tutti noi un segnale di positività perché io ritengo che Trani storicamente abbia delle difficoltà proprio insite, forse nel carattere dei nostri concittadini, ha delle difficoltà proprio a riunirsi, se io alludo per esempio a manifestazioni che sono espressione un po' del territorio, ti faccio un esempio il carnevale, piuttosto che quando c'è la necessità in questa città di stringersi, di sedersi intorno a un tavolo per un fine comune e cercare di produrre dei risultati, io ho l'impressione, non da oggi, che noi come città abbiamo qualche difficoltà, prevale magari l'orgoglio piuttosto che la poca disponibilità, non so trovare una giustificazione, però di fatto così è, io credo che questa esperienza calcistica tra le mille difficoltà che abbiamo citato abbia dimostrato che se ci si presenta in maniera trasparente, coinvolgendo, perché non dimentichiamo che comunque la tifoseria, il tessuto sociale, imprenditoriale, i commerciali, percianti hanno partecipato a questa avventura e quindi io ritengo che il fatto che ci sia stretti per un fine comune sia un esempio da perseguire anche fuori dall'ambito calcistico, adesso parleremo magari anche di iniziative che continuiamo a pensare, tipo la partita del cuore, ma ne parliamo quando vuoi, che sono esempio di come attraverso lo sport si possono fare anche delle cose che hanno poi un risvolto diciamo di natura sociale. Ecco, parliamo un po' della vicenda sportiva di questo Trani, si è dovuta rifondare una squadra quasi da zero, intanto però c'erano dei punti fermi e questi punti fermi sono diventati un esempio, forse si è apprezzato il loro valore anche umano, soprattutto umano nel momento in cui sono diventati loro i riferimenti alla squadra e parlo soprattutto di Donato Vittorio e Massimo Fumai che sono stati poi i capitani che si sono alternati in queste giornate. Vittorio e Fumai spesso hanno giocato ad una gamba sola in condizioni fisiche veramente pessime, quindi non soltanto Pettinicchio ma anche giocatori che poi tranesi non sono ma che hanno sentito poi l'attaccamento alla maglia più di ogni altro. Sì, ma io quello che ho pensato non avendo in un certo senso la preparazione, non avendo in precedenza fatto calcio è che siccome bisognava allestire un organico, che vi ricordo quando noi abbiamo fatto l'esordio come nuova società a Francavilla in Sinni, noi avevamo schierato già qualche elemento nuovo perché noi avevamo il problema che l'organico a disposizione del Dopoflora non permetteva al Trani di scendere in campo, sia a livello economico che a livello tecnico. L'unica cosa che io ho prestato la massima attenzione è che a Trani arrivassero delle figure, delle persone per bene e quindi rispondendo alla tua domanda, da un lato potevamo contare sui giocatori che comunque noi conoscevamo, Vedi Donato, Vedi Massimo, che comunque hanno avuto tutto ciò che gli spetta, questo ci tengo a sottolinearlo, perché logicamente loro si trovavano di fronte a una scelta e hanno sposato la causa a Trani, primo per affetto ma anche perché io ho dato loro una disponibilità ad onorare gli impegni fino in fondo. Per il resto i ragazzi che sono arrivati io penso che tutti abbiamo imparato a conoscerli, perché da Germano Di Gennaro a Simonetti a Rufini, che è stata una pedina fondamentale in questa scanchiera, perché è stato un po' il vero capitano per età anagrafica e per esperienza ed è stato quello che secondo me all'interno dell'espogliatoio unitamente a Massimo e a Donato ha dato qualcosa in più che forse a questa squadra mancava, cioè un briciolo di esperienza, un briciolo di cattiveria, una positività, un fatto che prima della partita di Grottaglie siamo stati insieme dal sabato e la sera abbiamo parlato tutti insieme e Danilo ha spiegato alla squadra come si doveva affrontare questa partita e qual era l'atteggiamento da tenere in campo durante la partita, ma soprattutto qual era la concentrazione che serviva per poter affrontare nel miglior modo possibile mentale questo appuntamento e in effetti io penso che poi la squadra abbia tirato fuori quello che da una comunione di intenti e dal fatto di aver condiviso quello che era l'obiettivo è emerso nella partita di Grottaglie che ricordo il Grottaglie aveva due risultati su tre, giocava in casa ed è stata se mi permettete un'impresa, anche perché noi quella partita l'abbiamo dominata, il Grottaglie non ha mai tirato in porta ed è venuta fuori la voglia di portare a Trani un obiettivo che secondo me è da considerarsi storico. Quando ti sei insediato lo slogan fu subito il Trani ai Tranesi, ma evidentemente alla luce di quello che è successo non è soltanto uno slogan societario, perché poi se andiamo a guardare, la salvezza passa anche per un gol decisivo a Grottaglie di Sabino Terrone, il Trani ai Tranesi è anche questo, Sabino Terrone che tra l'altro con quelle due punizioni ha cambiato la storia della partita con Langri che anche in questo caso la luce dei fatti è altrettanto decisiva come quella di Grottaglie. Assolutamente, sei piccoli segnali che poi forse ti dicono che c'è un destino in certe cose scritto, io credo che, ripeto, ci sia una sorta di destino scritto, cioè il fatto che abbia segnato anche Sabino dei gol fondamentali, citavi Angri, citavi Grottaglie, è un segnale perché comunque Sabino da Tranesi ha firmato anche lui un gol indelebile nella memoria di tutti e quindi piccoli segnali che ti dicono che io a questa salvezza ci ho sempre creduto e la cosa che mi fa piacere dire pubblicamente, perché come sempre ho fatto, è che per affrontare quest'ultima partita a Grottaglie sono stato avvicinato da decine di persone telefonicamente che in qualsiasi ruolo da direttori sportivi a procuratori a dirigenti di società cercavano di consigliarmi qual era l'atteggiamento e dopo aver ascoltato tutti e professando una sola fede che era quella dell'onestà e della trasparenza ci sono le mie dichiarazioni mentre tutti mi consigliavano di andare a Grottaglie a pareggiare perché avremmo avuto la possibilità di giocare, intanto di attendere il risultato di Sant'Antonio, uno, secondo di avere la certezza di fare uno spareggio per non andare ai play out perché se il Grottaglie avesse vinto noi saremmo andati direttamente ai play out e allora è stata una settimana di telefonate di personaggi poco credibili del mondo del calcio, gente che diceva c'è bisogno di dare un premio a Tizio piuttosto che a Caio perché ci garantiamo questo e non capisco perché queste persone si facevano sentire solo alla vigilia di una partita, questo fa capire il marcio che c'è in questo ambiente. Io ho ascoltato tutti come sempre, giovedì all'allenamento ci siamo rivisti col mister e io ho detto mister Giacomo cosa pensi di questa partita, ma se è una partita difficile la squadra comunque sta bene e allora io gli ho detto Giacomo noi andiamo a Grottaglie e andiamo a vincere e io lo dichiaro pubblicamente perché loro devono avere paura del Trani e così è stato, io questo ci sono le mie dichiarazioni, le potete vedere, ho detto che il Trani aveva la possibilità di andare a vincere e non avremmo fatto calcoli e poi come vedi si è realizzato questo e questo è un'altra, la morale è un altro messaggio per dire che comunque se uno è convinto dei propri mezzi e ragiona in assoluta onestà intellettuale e poi la mette anche in pratica il risultato poi arriva. E mentre noi parliamo qui rilassati il Grottaglie in mezzo a mille tensioni sta preparando lo spareggio a Rossano Calabro contro il Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate che ci richiama alla memoria anche l'ultima partita della gestione Flora. Adesso facciamo un piccolo passo indietro se ritieni a quella esperienza perché Sant'Antonio Abate è stato l'epilogo di un Trani che è partito tra tanti entusiasmi con quella storica promozione e finito in maniera abbastanza poco sportivamente edificante. Da quella esperienza adesso a bocce ferme ti senti più deluso o tradito? Allora io come sempre non ho l'abitudine di guardarmi alle spalle se non per improverarmi cose che riguardano la mia persona su qualche errore commesso ma non è costruttivo guardare al passato. Uno nella vita dal mio punto di vista deve sempre cercare di correggere ciò che ha sbagliato in passato ma guardare sempre avanti per cercare di costruire qualcosa di positivo. Mi fa molto piacere questa domanda perché oggi sarebbe facile, non abbiamo impegni di sorta con nessuno, puntare l'indice contro qualcuno. Io dico solo una cosa, il dottor Flora era un patrimonio che Trani avrebbe fatto bene a tutelare e a conservare. Flora non si è comportato bene, non si lascia una squadra a metà campionato, non è una cosa da una persona come lui che comunque ha vissuto per tanti anni di calcio. Io avrei, laddove non sono arrivate quelle risorse che lui pensava di poter introitare, personalmente avrei ridimensionato i programmi, avrei fatto anche un briciolo di mea culpa perché ingaggi come quelli di Albano e di tanti altri sono sicuramente un insulto alla situazione generale di crisi che si vive e quindi mi permetterete anche di dire che è facile fare calcio avendo quelle possibilità economiche, spendendo quello che si è speso, però ognuno è giusto. Io parto dal presupposto che questa è la critica ma ho premesso che il dottor Flora per me era un patrimonio, era una persona che si poteva legare maggiormente al territorio e potevamo sicuramente vivere in prospettiva degli scenari diversi. A Flora contesto il fatto che uno che ti ho detto ha lasciato la squadra a metà campionato quando era possibile ridimensionare i programmi, finire la stagione anche contro voglia e ne sarebbe uscito comunque da trionfatore perché è giusto non essendo legato al territorio che un percorso abbia un inizio e abbia una fine. Però c'è un fatto, dobbiamo un po' tornare indietro. Io credo che un appunto che io devo fare alla città e ai tifosi e che è stato per me che sono stato all'interno del gruppo da sempre un primo segnale che non mi è piaciuto e qualcuno che mi ascolta sa a che cosa mi riferisco e alludo al fatto che la stagione di quest'anno non era cominciata bene. Quando tu parlavi dell'entusiasmo io ti ricordo che alla presentazione si era già rotto il giocattolo. Quando noi ci ritroviamo in piazza teatro al di là delle presenze secondo me fu fatto un gravissimo errore. Quando ci fu la presentazione della squadra ricordo solo un particolare. Il dottor Tarantini, sindaco di questa città, è anche un grande tifoso di questa squadra ed è una persona che non ho mai condiviso, chi ha cercato di strumentalizzare anche magari a volte delle mie dichiarazioni. Il dottor Tarantini è stato una persona che mi ha sempre ricevuto qualsiasi volta, io l'ho interpellato per qualsiasi motivo. È stata una persona che quando c'era il dottor Flora, alludo all'estate, un mese prima dalla data fissata per la presentazione, ha convocato una decina di imprenditori a casa sua, rinunciando a dei giorni di ferie perché ricorderete erano i primi di agosto e in funzione di una disponibilità data al dottor Flora ha convocato, ribadisco aprendo le porte di casa sua, ha convocato un tavolo con degli imprenditori che dovevano sostanzialmente essere sensibilizzati, perché oltre questo un amministratore non può fare, alla causa della Fortis. Questo è stato fatto. Diciamo che da questa cosa si è allestito un organico competitivo, perché questo è stato il passaggio fondamentale che ha permesso poi a Flora di allestire l'organico che ha fornito. Poi cosa succede? Dopo aver fatto questo lavoro, che non credo che in altre città un sindaco abbia dato queste disponibilità, non mi risulta, se voi conoscete qualche altro esempio me lo direte, questo sblocca e fa rimanere a Trani il dottor Flora e poi arriviamo al giorno della presentazione con Fior di Nomi. Alla presentazione, il sindaco viene subito fischiato. Lì per me è già successa una cosa che non doveva succedere, che non mi sono spiegato, perché non è che io debba difendere il sindaco o ho motivo di farlo. Io stimo la famiglia Tarantini, perché oltre il sindaco anche Mimmo, che è un mio fraterno amico, mi ha dato una grandissima mano come disponibilità, la mano ce l'ha data tutta l'amministrazione comunale, indistintamente anche l'opposizione, però quel giorno io ho capito che questa stagione sarebbe andata male. Se a questo poi ci mettiamo, che per difetto proprio di... non voglio usare termini che non voglio dire, ma diciamo che il dottor Flora non è dal mio punto di vista un buon comunicatore, perché se tu dopo la prima partita di campionato, o meglio la seconda, la prima in casa, dichiari che tu vuoi lasciare la squadra, mi fai pensare che l'entusiasmo, la vicinanza che io ho ricevuto dalla città e è logico che non si può chiedere ai tifosi di venire allo stadio quando tu dichiari alla seconda giornata di campionato che te ne vuoi andare. E questo comunque è stato l'inizio della fine, quindi poi se ci mettiamo anche che noi abbiamo vinto a Boville e alla prima giornata di campionato c'era qualche centinaio di spettatori allo stadio, dopo i 5.000 del noto... è una cosa inspiegabile. L'unica giustificazione che do, dico che sono state le dichiarazioni sempre negative del dottor Flora nei confronti della città e della tifoseria. Sicuramente la città può avere sbagliato nel senso di avere preteso e atteso da Flora sempre tutto. Flora è stato forse inquadrato come una persona in grado di reggere i trani in totale autosufficienza senza aiuto di nessuno. Flora forse a sua volta avrà trasmesso un messaggio in tal senso e quindi ci sarà stato questo distacco totale tra la società e la città e alla fine il risultato è stato quello che è stato. Però questo adesso, guardando al futuro, può diventare, non so se un segnale d'allarme o un incoraggiamento per capire dove c'è stato l'errore e quindi evitare di ripeterlo. Perché Flora è stato di fatto l'ultimo grosso imprenditore che ha gestito il trani da presidente con i risultati che abbiamo visto. Allora, dopo una salvezza che è nata in questo modo, con un lavoro da zero, dal basso, con questa immagine che si è data al trani di cui parlavamo. Quale tipo di futuro insomma il trani deve avere? Un presidente economicamente facoltoso ma in grado di avere un buon rapporto con la città oppure un gruppo di lavoro che mettendoci tanto sacrificio riesca ugualmente a raggiungere un risultato egregio come quello che tu quasi da solo hai raggiunto. Ma è difficilissimo dirlo perché io penso che bisogna vedere che scenari si aprono. Però se vogliamo dare un futuro a questa società, quello che deve succedere deve succedere in pochi giorni. Perché se pensi che se tu vuoi programmare, fare una stagione senza adottare i canoni e i criteri adottati da chi apre il portafoglio e anche a tre giorni dall'inizio del campionato è in grado di comprare i migliori elementi perché gli offre cifre spropositate, io credo che trani questo non se lo possa permettere e credo anche che non sia giusto. Io credo che per dare un futuro a questa società bisognerebbe individuare delle persone che intanto abbiano a cuore le vicende della squadra della nostra città. E in secondo luogo anche dei finanziatori esterni che possano creare un piccolo budget che può essere utile per partire e poi credo che abbiamo dimostrato che con le risorse e la disponibilità della città si possa fare qualcosa di positivo. Ma penso che il presupposto debba essere uno e solo. Chiunque decide di intraprendere questa avventura e chiunque diventerà il nuovo presidente del Trani va supportato indipendentemente da chi sarà. Perché io sento dire, adesso senza fare riferimenti e nomi, noi vogliamo quello piuttosto che quell'altro. Io credo che chi decide di assumere questa carica e di portare avanti una stagione vada aiutato e supportato. Perché solo passandoci come ho fatto io e capendo quante notti ho passato sveglio a pensare di risolvere i problemi che c'erano dietro questa vicenda, cercando sempre di catalizzare tutte queste cose sulla mia persona, senza mai convolgere lo spogliatoio o chi mi era vicino, proprio per cercare di dare quanta più serenità possibile all'ambiente. Però questo è un prezzo troppo alto da pagare. Non è possibile richiederlo a delle singole persone. Ecco perché se un domani ci fosse un nuovo presidente, il nuovo presidente del Trani rappresenta la città, fino a quando si fanno le cose per bene, in nome e nell'interesse della collettività, questa persona va supportata indipendentemente da chi sarà. Se poi uno non opera in maniera pulita, è giusto che la città faccia le proprie scelte, ci mancherebbe altro. Però non si può in un certo senso avere la puzza sotto il naso, perché qui c'è il problema se questa società, dopo tutto quello che è stato fatto quest'anno, avrà o meno un futuro. C'è una domanda che a questo punto un po' provocatoria è, perché in così poco tempo hai preso il Trani da Flora, in quella situazione così drammatica in cui ci si trovava, anche e soprattutto economicamente parlando, facevi riferimento a quel semicollasso, no? E perché invece adesso in una situazione societaria tutto sommato tranquilla, una società quasi senza debito, o di fatto senza debito, una società che si è salvata, ancora passano di fatto mesi, perché da mesi che si parla del tuo passaggio di testimone a un nuovo presidente, questa vicenda non si chiude. Chi è che frena? Il presidente subentrante o tu che non ti fidi? No, la verità è che, oltre che la verità, è anche il mio grande rammarico. È il fatto che io pensavo e penso tuttora che il lavoro che io ho portato avanti, oggi posso dichiarare che io avevo molto chiaro qual era il mio obiettivo. Non lo dichiaravo prima semplicemente perché non volevo passare per il presuntuoso, ma io ho dato due visioni prima, cioè ho dato due spunti. Io ho cercato mensilmente di cercare qualcosa che supportasse la società per reperire le risorse per arrivare a fine campionato ed è stata un'impresa. Unitamente a questo si sono pagate 10.000 euro di multe, si sono pagati diversi fornitori che non erano spettanze della mia gestione. Io ho trovato fatture di medici non pagati, di ecografie del campionato di eccellenza, di spettanza ad allenatori, a cose vecchie, a forniture, a maglie, a decreti ingiuntivi. Oggi queste cose sono state per lo più risolte. Ero convinto, tornando alla domanda, che nel corso di questi mesi attorno a quello che in un certo senso io, Pasquale Di Filippo, Giulio, che ha avuto un ruolo fondamentale, Pasquale Di Filippo merita un grande applauso perché è stata la persona che mi ha proprio affiancato, dato energia positiva ed annoverare tra le persone alle quali io sono più in assoluto riconoscente. Detto questo io speravo che il tessuto imprenditoriale con il quale ho sempre colloquiato per vari ovvi motivi, quindi con puntualità sono state, ripeto, in questi mesi, la mia gestione ha pagato l'IVA, ha pagato tutto quello che erano gli adempimenti fiscali previsti, ha presentato il bilancio e quindi il Trani è una società pulita. La cosa inspiegabile è che nessuno delle persone che rappresentano il tessuto imprenditoriale cittadino ha mostrato interesse a questo lavoro e io ero convinto che sarei stato in grado attraverso questi segnali, attraverso questa concretezza che non è un frutto delle parole che io sto dicendo, ci sono dei documenti contabili che certificano che oggi il Trani è una società che ha un'esposizione debitoria minima, quindi pensavo che attorno alla mia figura si poteva creare un gruppo di persone che ribadisco, io sono ancora oggi convinto che l'imprenditore ha il terrore di entrare nel mondo del calcio perché pensa che sia un cestino dove buttarci dentro dei soldi, io non la penso così, personalmente la mia avventura logicamente ha comportato un importante sborso, ma non lo dico perché voglio in un certo senso, io ancora oggi cedo il Trani a costo zero, non rivolgo nemmeno i soldi indietro, io cedo il Trani con un'unica condizione, vorrei finire di onorare gli impegni sui ragazzi che hanno onorato la stagione. Manca l'ultimo stipendio? Sì, ma voglio dire, al di là dell'ultimo stipendio, quando tu fai una cena, due ne abbiamo fatte domenica, tornando da... Non c'è due senza tre, la terza inviti anche noi. Certo, ma con piacere, perché apri, adesso non vorrei disperdere il discorso che stavamo facendo, ma approfitto per dire e faccio pubblicamente i complimenti, che anche il vostro ruolo è stato un ruolo che mi ha aiutato non poco e non è retorica, perché voi mi conoscete e conoscete che persona sono, io ho sentito la vostra vicinanza, parlo ai giornalisti di Trani indistintamente, non faccio nomi, ma proprio per... anche questo ha contribuito a raggiungere un risultato, sempre essere positivi, mai cercare la polemica, sempre guardare il lato positivo delle cose. Questo è un esempio, quando citavo prima, le cose che noi possiamo realizzare nella nostra città, cercare di unirsi e non boicottare qualsiasi cosa che in un certo senso a volte può andar bene, a volte meno bene, ma se il fine è raggiungere un obiettivo che in questo caso è la salvezza, bisogna remare tutti dalla stessa parte. Quindi complimenti anche a voi. Grazie. Allora, parliamo adesso in termini di percentuali. Sappiamo che nell'avvicendamento societario, a un certo punto si è materializzata la figura di Paolo Abruzzese, tanto da fare una conferenza stampa al Palazzo di Città presente anche il Sindaco. In questo momento le percentuali che Abruzzese diventi Presidente quali sono? E le percentuali quindi rimanenti di un eventuale altro subentrante? Guarda Nico, io sempre per tenere lo stesso profilo, io rispondo che parlerò della cessione della società, premesso che io credo di aver lanciato dei segnali chiari, la società del Trani è disponibile a costo zero, vorrei semplicemente onorare l'ultimo impegno con i giocatori e questo è un messaggio che è aperto a tutti, a Trani, a Fuoritrani eccetera. Non mi sembra il caso di parlare di come sia stata gestita questa cosa, anche riferendomi alla conferenza stampa, tutta una serie di passaggi. Cioè io dico, c'è questa possibilità, chi vuole e ha dei progetti, le mie porte sono spalancate, io non voglio niente, nemmeno ripeto quello che ho personalmente messo in questa società e sono disponibile a cercare di aiutare, come ho detto prima, chi entra, se ha bisogno di me, per portare avanti questa stagione, certamente non come ho fatto quest'anno, dove tutto il discorso ha pesato sostanzialmente sulle mie spalle. Ora, questo noi l'abbiamo fatto, il campo ci ha detto che siamo stati bravi e guardiamo avanti con un briciolo di ottimismo. Però al momento è inutile dire la percentuale, io non sono nella vita una persona che guarda le percentuali, se non quelle di incremento sul lavoro che svolgo, ma dico che bisogna guardare a una proposta scritta, concreta e una volta che c'è una proposta concreta, i primi a saperlo sarete certamente voi giornalisti e tutta la città e tutti i tifosi. Alla luce di questo, la sensazione che abbiamo avuto di un incontro a Palazzo di Città, forse affrettato, forse intempestivo, è concreta? Hai anche tu questa sensazione? Si sarebbe dovuto attendere la formalizzazione di un passaggio e poi andare lì? Ma sì, io penso di sì, alla fine sì, perché comunque, alla fine ecco perché non è utile in un certo senso, cioè io conosco, adesso voglio dire, purtroppo bisogna dire le cose come sono, io so che Paolo Abruzzese è un grande tifoso di questa società, è una persona che è anche calcisticamente molto competente, appunto ti sto dicendo, cioè è una persona che non è che stiamo parlando, è una persona che con i fatti ha ottenuto il miglior risultato calcistico della storia dagli anni Sessanta a oggi, cioè dopo la brillante avventura in Serie B, il Trani ha vissuto di poche gioie. I risultati maggiori sono stati gestiti da Paolo Abruzzese, quindi se noi dobbiamo dire chi è una persona competente calcisticamente, che ha a cuore le sorti della squadra della città, è certamente lui, ma io nel momento in cui lui concretizzerà questo interesse con una proposta che vada a generare poi il passaggio di consegne, in quel momento noi ne parleremo. È inutile pensare se, io credo che lui abbia voluto semplicemente sondare un po' il terreno con quella cosa, però considerando che ci accingevamo ad affrontare la parte, diciamo l'iceberg della stagione, cioè il momento clou della stagione, questo ha generato anche all'interno dello spogliatoio un po' di disorientamento, come giusto che sia. Poi qualche risultato non è arrivato, il Trani molto probabilmente rischiava di fare i play out e malauguratamente di retrocedere e capisco Paolo Abruzzese che ha avuto un attimo di tempo da pensare. Però io al di là del discorso di Paolo, io penso che quello che ho detto prima, chiunque sarà il presidente merita di essere supportato, quindi chi dice un domani una figura, in questo caso Paolo Abruzzese, potrebbe rilevare la società, ma chi vieta partendo dai presupposti che abbiamo detto, che la società è una società pulita, che può avere un futuro anche a livello fiscale e non possa essere affiancato da altri imprenditori di Trani, di fuori Trani. Poi di conseguenza una volta strutturato un piccolo organigramma si definiscono ruoli, competenze. Io sono convinto che si possa fare questo. In questo momento di totale relax però non si può non pensare ai tempi che apparentemente lunghi sono in realtà tutt'altro che dilatati. Tra due mesi già bisogna iscrivere la squadra a campionato e servono 50.000 euro. 60.000 euro. Sono soldi che in qualche modo vanno trovati se si vuole continuare il calcio a Trani. Ma se nel frattempo non si trova un acquirente, c'è il rischio di non iscrivere la squadra a campionato? Allora io per l'ennesima volta dico questo. Io personalmente lunedì mattina, non martedì, io non ho preso un giorno per rilassare. Io lunedì mattina sono uscito con la mia consueta valigetta e ero già attivo per quello che tu stai dicendo. Ho avuto degli appuntamenti con qualche imprenditore, anche perché c'è da chiudere questa stagione. Io sono ancora esposto economicamente nei confronti dei giocatori e risorse, non è che ne abbiamo tante. Quindi sto aspettando ancora che qualcuno saldi la propria fattura tra pubblicità, tra varie cose, perché mi serve per completare quello che io come esposizione debitoria ho ancora in essere. C'è qualche fornitore, piccole cose, che va saldato e quindi io sto lavorando, per me il campionato non è finito, non ha mai avuto un periodo di passo. Si rilancerà la Poste Pay? No, non credo. La Poste Pay conclude col dire che ha fruttato alla società fondamentale 4.685 euro. No, questo è bene dare dei dati. Siete stati importanti e a punto di vista dei risultati avrebbe potuto dare qualcosa in più, però è come dire, tornando al discorso della politica per arrivare alla Poste Pay, io non si può dire quando delle figure supportano un progetto, aiutano in questo caso il sindaco, l'amministrazione eccetera. Io dall'amministrazione, dalla disponibilità del sindaco ho avuto a disposizione delle risorse che sono arrivate da loro. Se tanto o poco, tu non puoi criticare chi comunque ti aiuta. E questa è la strumentalizzazione, in certi casi contro l'amministrazione. Perché io ho avuto un grande aiuto, se poi noi dobbiamo dire ma è stato tanto o è stato poco, questo è un altro discorso. Se tu accetti un aiuto, poi non devi fare come ha fatto un altro interlocutore che puntava costantemente l'indice, ogni domenica dichiarazione, la città, il pubblico, la politica, il sindaco. Non si fa così. Nel momento in cui qualcuno ti dà una mano, cerca di fare quello che può. Se poi non è sufficiente, non si può puntare l'indice, non c'è scritto da nessuna parte che una società deve essere aiutata dai tifosi e dalla politica. Una società sana deve andare avanti, poi se c'è un aiuto che viene dal tessuto sociale è un valore aggiunto, è una cosa che ti aiuta di più. Quindi grazie e silenzio. Non c'è altre cose. Ai tifosi grazie, rispetto, Trani merita, l'ho detto domenica, per quello che ha fatto vedere quest'anno, merita di calcare altri palcoscenici e noi dobbiamo fare la Lega Pro. Trani può fare la Lega Pro, è un campionato che si addice alla nostra città, abbiamo la struttura, se ci mettiamo anche due fari che con un po' di impegno si potrebbero mettere, possiamo reperire delle risorse, si possono organizzare delle partite amichevoli che darebbero grossa linfa. Vi ricordo che avendo delle squadre in Puglia che militano in campionati ben più alti, qualche amichevole, qualche rifinitura si può fare a Trani di sera, si può fare un piccolo incasso, si può avere uno stadio a disposizione anche se non lo gestisce la Fortis, ma che possa essere un contenitore e i fari aiuterebbero anche a un passaggio fondamentale, a magari spostare qualche partita di cartello al sabato sera o al sabato pomeriggio tardo, cercare di non essere in competizione con quello che le emittenti satellitari offrono e cercare di incrociare le esigenze del pubblico. Non si può dire che la gente non viene allo stadio, facciamo qualcosa per rendere questo scenario. Quei piccoli gesti che ho pensato in tribuna, il pasticcino, il caffè, nel tempo avete notato che allo stadio sono tornati i bambini, sono tornate le signore, le mamme. Queste sono cose che non è che ci vuole tanto impegno per farle. L'anno prossimo allestire la tribuna centrale con dei cuscini, dando un servizio, potrebbe sempre più far crescere. Allora prima bisogna cercare di fare delle cose e poi quando non vanno bene magari cercare qualche difetto e dire che la piazza ha risposto o non ha risposto. Però Trani una città che ha prodotto in una comunione di intenti qualcosa come 200 mila euro a supporto di questa società. La metà, più della metà è andata alla vecchia gestione. Perché se noi avessimo avuto quei contributi reperiti dall'amministrazione e dal nostro lavoro sul fronte pubblicitario, il Trani avrebbe finito il campionato e non avrebbe chiesto niente a nessuno. Purtroppo non è andato così, ma a Trani ci sono disponibili queste cifre per chi vuole fare un progetto calcistico. A Trani c'è disponibile una struttura che lo stadio, che non è con i nostri problemi, comunque è una struttura iperdegnitosa, con degli spogliatoi meravigliosi, si può fare calcio, il pubblico ha dimostrato che se coinvolto può essere una grande risorsa e quindi perché noi non dovremmo guardare a un campionato che sia più dignitoso per la città e che cambierebbe o finito tecnicamente lo scenario. Cerco di interpretare da queste parole la volontà di andare avanti comunque c'è. Forse si potrebbe anche ipotizzare una ulteriore prosecuzione della gestione Altieri nell'attesa che arrivi qualcuno, però la certezza che la squadra si iscriva la possiamo dare al campionato? No, perché io non sono, per fortuna non mi avete mai smentito in questi mesi, non mi avete mai accusato di aver fatto una dichiarazione che poi si è rivelata non vera. Mendace. Esattamente. Quindi di conseguenza, no, io sono molto preoccupato sia per quanto riguarda l'iscrizione, sia per quanto riguarda che... Questi due mesi diventano già un ultimato, se entro due mesi non si trovano i 60 mila euro in acquirente, trani non si iscrive al campionato? Ma non è l'obiettivo trovare 60 mila euro, perché tu trovi 60 mila, a parte che non servono 60 mila euro, ne servono diciamo una trentina massimo per saldare qualche multa di quest'anno che arriverà a breve e fare l'iscrizione. Gli altri 31 mila euro sono semplicemente una fiduzione bancaria che è una disponibilità, una garanzia che la federazione chiede laddove ci fosse un problema societario e la società non sarà più in grado di assolvere i propri compiti, quindi spettanze verso i giocatori, ma realmente tu non devi elargire questi soldi, devi avere una garanzia bancaria che attesta alla federazione che c'è questa disponibilità economica. Quindi in realtà per l'iscrizione servono 30 mila euro, ma se ragioniamo così non si va da nessuna parte, bisogna mettersi seduti a un tavolo, cercare di buttare dentro delle risorse in termini di valori non economici, ma proprio di apporto di qualche imprenditore che ci dà una mano. Io certamente personalmente non posso andare avanti da solo e quindi il trani praticamente non si scrive. Io ho rinunciato personalmente, e questo lo dico pubblicamente sempre con lo stesso orgoglio. Io a aprile, primi di aprile, ho rinunciato a un assegno circolare intestato ad Alberto Altieri, ho la fotocopia laddove volete rendervene conto, di 58 mila euro per cedere il titolo del trani a soggetti terzi che volevano portarlo fuori trani e martedì di questa settimana, siamo a sabato, ho avuto un incontro con altre due persone a me molto vicino e della società, con un soggetto che mi ha offerto 100 mila euro per comprare il titolo del trani e portarlo in altra sede. Nuovamente ho detto di no e nuovamente ho invitato questa stessa persona piuttosto di portarlo da un'altra parte a venire a fare calcio a trani. O se si creassero i presupposti con Paolo, di affiancare magari Paolo o chiunque decida di approcciare questa avventura e investire questi capitali piuttosto a... cioè io ho ribadito, io al posto che tu spendi a 100 per andare a fare calcio da un'altra parte, tu questi 100 non li spendi e parti già con 100 mila euro per fare un campionato. Mi sembra una cosa... Abbiamo quindi a meno la certezza della permanenza del titolo sportivo a trani. Adesso dobbiamo fare anche una domanda che può essere pure impopolare. Per il bene del professionista, Giacomo Pettinicchio, è bene che rimanga trani o è bene che cambi squadra perché dopo quello che ha dimostrato merita effettivamente un palcoscenico tale da regalargli anche delle soddisfazioni sportive dopo tante sofferenze. Ma io otterrei vita natural durante. E questo è il discorso del tifoso. Però ragionando in termini oggettivi... Bisogna vedere, Nico, inutile, ripeto, bisogna avere l'umiltà di ragionare passo dopo passo. Se tu non vai a strutturare un progetto serio non puoi coinvolgere un uomo come Giacomo. Non è giusto. Giacomo ha certamente delle richieste, ne abbiamo parlato, è stato chiamato da diverse società e quindi voglio dire o noi siamo in grado come città di fare un progetto e di garantirgli determinate cose o è anche giusto che Giacomo lasci la nostra città. E dovremmo solo essergli grati per tutto quello che ha fatto? Sì, soprattutto perché è andato ben oltre, no? Cioè è stato un tecnico che ha fatto due preparazioni quest'anno. Ha vissuto dei momenti anche lui molto difficili e come sempre i rapporti, l'essere vicini, il confrontarsi hanno poi prodotto un risultato che ripeto è straordinario e del quale sono molto orgoglioso. Ma il merito molto va riconosciuto all'uomo e al professionista. Pettini, che a parte a chi non vorresti mai rinunciare, se dovessi porre la condizione su qualcuno con cui continuare a lavorare nel trani che verrà, chi porteresti con te? Ma a livello tecnico, a livello dirigenziale? Ma a tutti. Ho detto, io ho vissuto questa esperienza e ripeto, chi ha parlato male anche del... io ho conosciuto delle persone straordinarie, anche a livello comunale della politica, persone che magari non avevo avuto il piacere di conoscere. Cioè è facile, vedete, anche a livello politico puntare l'indice sulle cose che non vanno. Però io ho capito che anche a livello politico un amministratore, un assessore, non ho citato Nicola Lapi. Nicola Lapi per me è stato un fratello, una persona che a qualsiasi ora del giorno mi ha dato la sua disponibilità, è venuto con me in più di un'occasione a cercare di darmi una mano, a sbrogliare i problemi, eccetera. E' facile dire il cittadino, come giusto che sia, dice questo non va, questo non funziona, ma non è che un politico ha la bacchetta magica. A volte bisogna anche capire che bisogna un attimo invertire il ruolo e capire che non è che un politico si approccia a fare l'assessore piuttosto che il consigliere comunale o il sindaco e ha la bacchetta magica e dall'oggi al domani gli si chiede anche con una certa veemenza di risolvere i problemi. Io che ho assistito a diverse cose, non è semplice questo discorso. Tornando allo staff societario e avendo citato queste persone, cosa dire? Pasquale De Filippio, Giulio, tutto lo staff, Nicola Cosentino, Gianfranco. Ripeto, se io inizio questo elenco sarebbe far torto ad altri. Assolutamente. E quindi io dico che le persone che sono state vicine al trani di quest'anno a 360 gradi, tifosi, politica, imprenditoria, commercianti, dirigenti, giornalisti, veramente ricordiamocela questa cosa che abbiamo fatto perché con un briciolo di commozione, visto che dico che secondo me abbiamo scritto una pagina della quale la nostra città, anche chi non segue il calcio deve essere un po' orgoglioso perché non è brutto chiedere aiuto nel momento del bisogno. Concludo il pensiero dicendo che molti mi hanno detto ma hai avuto molto coraggio anche ad esporti così tanto, a mettere la faccia e in un certo senso a girare dai commercianti con tutti per cercare di sostenere la causa. Ma io perché dovrei minimamente, io so che ho la coscienza di che tutti i contributi che sono arrivati sono stati versati sul conto della società, è stato fatto un grande lavoro e quindi io sono solo orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Stiamo finendo, contento della tifoseria, alla fine se tiriamo le somme il campo non è stato mai squalificato, è arrivata qualche multa di troppo, qualche comportamento di sopra le righe da parte di isolati, però crediamo che complessivamente anche la salvezza sia anche loro, questo è un grande risultato. La salvezza è della città e di tutti quelli che hanno partecipato e io sono convinto che la tifoseria di Trani è unica perché se a questa tifoseria, ripeto a Trani... Non è numerosa ma è matura, abbiamo questa sensazione. Io penso che, ripeto, se si creano i giusti presupposti per spostare a volte qualche partita di cartello e non metterla in concorrenza con la Serie A e si fa una programmazione e si comunica quello che si vuole fare alla tifoseria, Trani può avere una prospettiva importante futura perché i tifosi hanno dimostrato di amare questa società e penso che il limite che la città storicamente ha avuto è quella di una... se tu ripercorri gli ultimi vent'anni di storia calcistica cittadina, tranne la parentesi di quella grande società che partì dalla promozione per arrivare alle Serie D e poi si è frantumata, non c'è mai stato poi un percorso tranne il dottor Flora, ma anche Flora non ha avuto una programmazione o una comunicazione positiva. È sempre stato un rincorrersi, oggi non va questo, quello ha sbagliato, quello che... non è così. Tu devi partire con un progetto e al di là di quello che succede lo devi pianificare e lo devi perseguire. Ti dai una scadenza che può essere una stagione o due e alla fine delle due stagioni si tirano le somme e se prendi questo impegno lo devi portare avanti fino a quando hai detto non si lascia a metà. Per finire, in una stagione portata avanti con il cuore, l'epilogo è la partita del cuore. Accennavamo prima, facciamo uno spot in favore di questa partita nel cuore che metterà di fronte il trani dello scorso anno all'attuale, con adesso la necessità di scegliere a cui giocatori da che parte schierarli. Tra gli organizzatori della manifestazione, lo citiamo anche per esseri vicini un momento di lutto familiare Sergio Porcelli, che partita sarà, che cosa diciamo per portare quanta più gente allo stadio? Perché sullo sfondo c'è un progetto benefico importante. Cosa dire? Appena abbiamo condiviso con Sergio, al quale va un grande abbraccio, e con padre Carlo Diaferi a questa idea, io personalmente ci ho messo tre minuti a sposare subito la causa e a dare come sempre la mia totale disponibilità a una causa nobilissima perché il progetto è quello all'istituto dei padri erogazionisti in via Corato, attinente al suantareo della Madonna di Fatima, di costruire una, si chiama Domus Felicia, cioè sarebbe una casa alloggio che potrà ospitare 15 bambini con gravi difficoltà e gli consentirà anche di dormire, di ospitare le famiglie, insomma c'è un progetto veramente che merita la massima attenzione. Quindi il fine è nobile e noi l'abbiamo sposato subito, il 29 maggio metteremo in campo la solidarietà, la voglia di fare festa, unita alla voglia di dare un contributo per una causa, ti ripeto, che ci coinvolge, che riguarda i bambini. Quindi spero a giorni verranno messi in vendita i biglietti e spero di vedere lo stadio strapieno, di vedere come sempre tante volte ho detto le famiglie, i bambini perché sarà una festa che ha un fine, ripeto, di solidarietà e sono convinto che tra anni saprà rispondere e che vivremo una bella giornata di sport avendo anche la possibilità di salutare dei calciatori che hanno scritto una pagina di storia nella nostra città. Quindi l'invito è a venire in massa. Bene, allora a questo punto chiudiamo la video intervista ringraziando Alberto Altieri per la sua disponibilità. In bocca al lupo da questo momento in poi per il futuro del calciotranese nel quale siamo certi Alberto Altieri un ruolo l'avrà sempre. Magazziniere. Forse ancora più nobile del Presidente quello del magazziniere. No, volevo dire, questa battuta per dire, era una battuta per chiudere che mi peserà non farne parte, quindi la mia risposta era affermativa. In qualsiasi ruolo cercherò di essere vicino a questi colori. E quindi a questo punto cerchiamo di continuare compatti a sostenere i trani perché nonostante la salvezza abbia determinato questo clima, come dicevamo, di grande soddisfazione e anche di rilassamento. Purtroppo rilassarsi più di tanto non si può. Arrivano ulteriori scadenze e bisogna continuare a tenere il trani e il nome di trani nel calcio che conta. Grazie ancora ad Alberto Altieri, grazie a tutti voi. Le video interviste di Radiobombo ritornano come sempre fra una settimana su radiobombo.com e in estratto sul giornale di trani. Grazie a tutti.